Da anni mi occupo specificatamente di neoplasie ginecologiche, soprattutto da un punto di vista medico, quindi dal punto di vista delle terapie mediche. Negli ultimi anni mi sono avvicinata parzialmente anche ad interventi di chirurgia ginecologica. Nel nostro istituto e nel nostro reparto vengono effettuati interventi chirurgici, così come terapie mediche, sia in un setting adiuvante e neoadiuvante, e questo in qualche modo caratterizza uno degli aspetti più importanti in oncologia in generale e in ginecologia oncologica in particolare, e cioè la presa in carico della paziente sin dai momenti della prima diagnosi alla pianificazione terapeutica e a tutte le tappe terapeutiche che vanno dal trattamento della prima diagnosi al trattamento di eventuali problematiche successive, in maniera tale da assicurare sia da un punto di vista medico ma anche, perché no, da un punto di vista umano, un percorso unitario che è fondamentale per la compliance nei confronti dei trattamenti anche i più aggressivi e anche il sostegno psicologico, il sostegno personale emotivo che ognuno di noi mette in campo nella sua professione. Questo è un punto abbastanza nevralgico nella nostra attività che si associa anche ad altri momenti importanti. Da una parte la possibilità di avvalersi di varie competenze afferenti al nostro ripartimento e quindi anche alla nostra unità di ginecologia oncologica. Questo significa un ottimo rapporto con i colleghi di anatomia patologica, un ottimo rapporto con coloro che si occupano di trattamenti radioterapici e così via con altre competenze. Questo è fondamentale non solo in generale nell'oncologia e nella medicina odierna, ma anche in ginecologia oncologica, lì dove dobbiamo utilizzare diverse strategie, qualche volta in maniera concomitante o addirittura in maniera sequenziale, realizzando il massimo sforzo terapeutico per i nostri pazienti. A questo dobbiamo aggiungere un altro aspetto, e cioè che fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di integrare quelli che sono i nostri sforzi prettamente medici anche con una serie di altri supporti alle pazienti che comprendono ad esempio un servizio di psico-oncologia. Anche questo è un punto nevralgico che riteniamo fondamentale ai fini di una gestione, come dire, ottimale delle pazienti nel loro percorso, non soltanto terapeutico immediato, parlo di chirurgia o chemioterapie, ma anche in una fase molto particolare che è quella del follow-up, che dura a lungo e nel quale spesso le pazienti possono in qualche modo ritenersi, diciamo, lontani da quello che è un rapporto con il medico laddove questo follow-up non sia programmato, non sia regolare, non sia sistematico.